ringraziamo Gesù e lo ringraziamo in un modo specialissimo per il dono di Gabriele in un modo particolare ma come faremo senza Gabriele? Grazie a tutti Grazie a tutti voi, grazie a tutti voi per l'amore che ci avete dato, grazie Grazie a tutti Johns Viva Gesù, viva Gesù, viva Gesù.